giuro che non giulio sono io il ragazzo di oggi era una battuta dopo un'ora di chiacchiera civile posso capire che sia stata infelice e percepita male ti chiedo scusa vorrei chiarire eh caro mio eh mi spiace sai mi spiace tanto perché purtroppo considerate anche i recenti eventi perché non è la prima volta che succede caro furio forza scusami forza napoli purtroppo ci sono delle cose su cui non si scherza numero uno numero due su delle cose si scherza magari fra amici fra conoscenti non di certo con una persona che non ho mai visto in vita mia e che ha descritto una situazione più che plausibile ma ne parleremo tra poco non ti preoccupare non ti preoccupare che sei massimo massimo tutelato eh voce picciata e tutto però meno male che io registro ogni tanto era tutto un gioco sì ovvio ma chi per non scherzare non descrive esattamente una situazione più che plausibile come ficcarmi una bottiglia nella giugolare ragazzi piccoli scherzi che si fanno eh non so nemmeno io no furio scusami no non so perché volevo dire forza napoli sono impappinato lì eh comunque ripeto io ho poco da chiarire mi dispiace guarda purtroppo eh io non non sono abituato a scherzare così con le persone se tu sei abituato così mi spiace per te ma considerato da dove eh da dove arrivi da quale community arrivi da quale eh sì adesso adesso lo apro palle uomo c'è poco da c'è poco da da stupirsi sinceramente ehm l'altro giorno come avevo detto ve l'avevo detto anche in live mi scrive questa persona dicendomi che vuole un confronto con me dicendo diciamo annunciandosi come capo dei trollini uno dei capi dei trollini già questa definizione fa capire molto io ho detto vabbè non potevo gli scorsi giorni io ho detto oggi stamattina anzi nel primo pomeriggio l'ho sentito e e questo è quello che è successo lo ascolteremo tra poco ovviamente tutelando la persona per quanto avrei potuto anche non farlo è considerato il finale di chiamata che è quello ehm è il motivo per cui ho messo questo titolo e per cui insomma vi fate Giulio il confronto è stato civile o mi sbaglio abbiamo parlato per più di un'ora o dico bugie ti sono sembrato uno squilibrato o una persona normale abbiamo parlato da persone civili alla fine ho fatto una battuta grave e ti chiedo scusa capisco che il mio modo di scherzare è stato oltre eh mi dispiace guarda forza Napoli te l'ho detto guarda puoi dire quello che vuoi per quanto ti puoi scusare io non è una questione di scuse qua capisci forza Napoli eh il fatto che sia stato civile per quanto comunque fosse una chiamata a volte esclusivamente a rinfacciarmi cose eh che perché da in parte uno può anche dire delle cose su cui abbiamo ragionato tu ho anche dato ragione su altre ti sei ampiamente inventato il tutto per cercare di mettermi sullo stesso piano eh di persone che passano la loro vita dietro Riccardo solo per entrare sul disco a dirgli muori gobbo di merda tua madre quella puttana Rita Romano quella puttana per cui hai cercato per per più tempo di mettermi sullo stesso piano eh perché non chiarite ovvero dovete lucrare anche su questa vicenda non ho la micra caro caro cara io non devo non devo lucrare su nulla eh capisci quando si parla di minacce di morte c'è poco da lucrare ehm semplicemente si fanno esposti cosa che io farò domani perché sento che potrei eventualmente essere in pericolo considerato che quello che ascolterete è ehm è una descrizione molto veritiera di una cosa che potrebbe benissimo accadermi eh che io poi ripeto possa non aver paura di queste persone è un altro discorso ma io ehm vi ricordo che non è la prima volta che io subisco queste minacce quindi siccome ne ho le palle non piene di più ok di questo modo di eh vivere la piattaforma allora da adesso in poi si agisce come si deve agire faccio entrare palle uomo siete talmente pulite che mi inviate questo ragazzo che ha fatto un grosso errore quello di dire che mi ficcava una bottiglia una che loro sarebbe se non avessi smesso di parlare di questa cosa mi avrebbero ficca sarebbero venuti nel luogo in cui io suono il sax e mi avrebbero ficcato una bottiglia nella giugolare eh ma era uno scherzo perché lui lo dice è uno scherzo lo dice anche lo ascolteremo ovviamente è uno scherzo è una battuta una piccola gag è tutto cinema ragazzi eh sì ma è tutto dai è un piccolo scherzo certo con tutta la gente no che risca perché poi io non sono un giornalista d'inchiesta eh accertato non sono un giornalista perché non ho studiato quindi ovviamente non mi non mi non mi metto eh non mi do questo ruolo ma con Matteo Saba, Liccardo Rosario e questa gente io minacce l'ho ricevuto esattamente come le le ricevono tanti giornalisti se non chiudi la bocca se non smetti perché cosa ciao mi scappa grazie per la Saba perché Matteo Saba che cosa mi aveva detto se tu inviti il limite sottoscorta perché ingiustamente minacciato tranquillo ce lo possono soltanto sucare ma ovvio che ce lo possono sucare ma questo deve essere chiaro perché me lo dovete solo sucare come sempre perché non mi sono fatto intimidire da Liccardo non mi sono fatto intimidire da Saba non mi sono fatto intimidire neanche da NC purtroppo però lì ho dovuto abbassare la testa perché io di spendere soldi da avvocati non ne ho voglia soprattutto per quelle questioni lì e non mi farò neanche intimidire da questa gente perché me ne sciacquo i coglioni di voi avete capito dopodiché subendo le termine sentendo alcune parole eh alcune minacce posso benissimo andare a fare un esposto ma per la mia sicurezza poi sarà la legge a valutare se effettivamente è considerabile come una minaccia o una piccola gag non sarò io perché io non sono non sono un una forza dell'ordine però uno fa un esposto sia mai che un domani mi trovate morto col mio sax con la giugolare aperta magari qualcuno sa chi potrebbe essere stato io sono incazzatissimo se non se non è evidente dopodiché ti dico quello che è successo io prima ero in live tu sei entrato mi hai detto brevemente il contenuto di quella chiamata ti ho dato dei consigli in live ti ho dato la mia opinione in live e dovrei che è passato questo neonato account perché forza napoli è un account fresco è molto fresco non so perché ci ti è pure su discord ma scritto sempre lo stesso messaggio lo stesso messaggio che ha scritto anche qui nonostante io avessi detto da subito ho fatto guarda in realtà le comunicazioni le puoi interrompere anche ora ha insistito un po e insomma i suoi messaggi era ma è una battuta ma non è una minaccia credibile perché non è una minaccia credibile perché io sono un bravo ragazzo e io che ne so chi cazzo ti conosce a te quello di sgordo no ma esagerava fatto ma a me non me ne frega un cazzo a me non me ne frega un cazzo se tu e io ancora non l'ho sentita io sono convinto che quando la sentirò non cambierò idea anzi magari mi incazzo un po di più però su una cosa hai ragione perché sai anche a me è arrivato è arrivato qualche venticello perché la cosa vabbè possiamo dire la cosa del nickname cambiato insomma te l'ho te l'ho detta io no certo e una cosa che voglio ricordare a queste persone se non avete ancora capito il metodo di lavoro è che quando facciamo trapelare delle cose in live e perché i giochi sono già chiusi dopodiché cosa aspetta aspetta in ogni caso non ti do la mia autorizzazione a far sentire la chiamata poi fai tu regolati tu allora a parte che due secondi fa mi hai detto la facciamo ascoltare tutti detto sì ovvio sai cosa succede caro forza napoli che nel momento in cui tu mi minacci di morte la conversazione privata così se non gli sta bene se non gli sta bene a parte che ripeto è già picciata è comunque la voce già picciata ovvio potrebbe essere un'opera di fantasia però ripeto ti ritieni le sono i tuoi diritti vai a denunciare a denunciare vediamo però poi chi sarà prendere nel culo dei due occhio perché io insomma fossi in te no guarda ha fatto sentire una chiamata dove io gli dico questa cosa però tranquillo tutto parte che ripeto poco fa hai dato l'autorità scuola il confronto si addirittura volevi parlare ma io non parlo con gente che mi dice mi ficca una bottiglia nella giugolare mi dispiace non funziona così nel mio mondo se voi allora voi siete abituati a avere a che fare con l'iccardo senza nulla togliere per carità ma io non sono l'iccardo rosario ragazzi si è chiaro e questo lo dico a tutti di quel branco eh non sono l'iccardo rosario io eh ricordate ancora confuso io io capisco che la quantità di messaggi ripeto parlo anche solo della mia live messaggi che scritto nella mia chat la quantità dopo io ti ho detto da subito non abbiamo niente non insultate in chat eh mi raccomando eh niente insulti sia chiaro allora la quantità di messaggi e te l'ho detto a me fa capire che tu ora hai un po di timore perché sai di aver fatto la cazzata e come se lo sapevole ok che è un grande passo avanti però ciò non toglie che l'hai fatta e ok sì ti scusi io personalmente e ripeto ancora devo ascoltare io personalmente le scuse tu le fai non le accetto non le accetto cioè se uno mi minaccia e poi si scusa capito potete dire vabbè ubriaco minacciava ubriaco non era capace di intendere di volere tu stai dicendo che era per te una battuta ma ripeto non sta né a me né a cioè tu non sarò io a stabilire eh ovvio la domanda la domanda è una se chi riceve chi sente quelle parole si sente minacciato è probabilmente legittimato a esporre questa preoccupazione che sarà quello che farà tra l'altro spoiler non è che lo fa domani perché oggi dobbiamo fare la live Giulio ha chiamato ha già chiamato certo che ho chiamato ho chiamato il 130 oggi presentati domani presentati domani e non porti l'autorità la conversazione da quando ci siamo detti ciao all'inizio della sua fine no ma io porto tutto padre dio non ti preoccupare dall'inizio alla fine tutto sai cos'è la cosa è che a loro di che tu che mi dici che sono un ipocrita perché l'iccardo io sono come voi è un cazzo le forze e l'ordine forze e l'ordine interessa di quello che tu hai detto alla fine ma non ti preoccupare che gli porto tutto non ti preoccupare perché io è la terza volta nel giro di tre quattro mesi che ricevo delle minacce è la prima volta l'iccardo poi Matteo Saba che non mi ha minacciato assolutamente né di percorsa né di morte ma solo ho detto se porti mini tell live io ti denuncio e poi adesso tu io ve lo dico per l'ultima volta e questo vale per tutta twitch vale per tutti a me di queste cose qua non me ne frega un cazzo se mi sento minacciato patto dalle forze l'ordine semplice ma come va fatto capito cioè così che funziona il mondo ma no ma non importa se le minacce valgono ma cioè se io mi sento o meno minacciato capito se io ho paura o meno minacciato se ho paura meno di questa persona c'entra quello che ha detto e adesso lo ascoltiamo tranquillamente io non ho problemi il resto della conversazione ve lo posso anche far sentire ovviamente non è che mi metto un'ora e mezza di chiamata perché così devo far contento lui perché io a lui non gli devo un cazzo perché questa persona mi ha detto io vengo quando noi veniamo anzi noi non io noi veniamo quando suonare il sax edificiamo una bottigliata nella giugolare ok è chiaro per cui io a questa persona non gli devo un cazzo non gli devo non 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 devo accettare le sue scuse non gli devo nulla ok perché funziona così punto è chiaro non devo nulla a nessuno perché qui se c'è uno che se c'è la vittima sono io perché mi avete rotto il cazzo se vi cagate addosso tutti e qui parlo in generale per tutte le cose che stanno succedendo perché ormai avete capito ok con chi avete a che fare forse non tutti perché lui no allora mettetevi l'animo in pace perché è così che funziona adesso se avete fatto cazzate avete solo da pensarci prima perché qui c'è un cacassotto generale perché io di merda in quella community ne ho vista valanghe e questo oggi ha avuto il coraggio di provare a mettermi a confronto con quelle merde qui malati ti modero un attimo così ti spegno ovviamente no perché sono incazzato stavolta sono veramente incazzato perché non è la prima volta è la terza volta non le palle piene aspetta un attimo allora e te lo ripeto un'altra volta ora scrivi come forza io non so neanche chi cazzo tu sia se non il tizio che ha chiesto di comunicare perché no quello che è stato detto in quella là io so solo questo non so chi tu sia quanti anni hai che facci hai che fai nella vita quali sono i tuoi hobby e non me ne frega un cazzo però sappi che puoi chiedere scusa che fai ho chiesto scusa vostro onore vostro onore ho chiesto scusa chiesto scusa usa questa però guarda se poi parli e anche dire mi difenderò nelle sedi competenze e ci mancherebbe ma ci mancherebbe è tutto il diritto così come una persona che viene scherzosamente meno scherzosamente però una persona che viene minacciata e percepisce la minaccia com'è credibile ha tutto il diritto di tutelarsi va bene ascoltiamo l'ultima parte pronto senti l'obiettivo di questa mamma c'è capito l'obiettivo di questa mamma è che sono smatti di rompere il cazzo la prossima volta che adesso fanno in merda si vengono e la bottiglia la fichiamo nel collo fino a farti sangue dalla giugolare perfetto perfetto bene non sono un bestia meno male che ho registrato dai facciamo così scherzo naturalmente lo sei pure tu tu hai appena fatto una delle cazzate più grande della tua vita in questo momento te lo assicuro ma tu te la prendi per seria non ti preoccupare va bene dai ti saluto ciao caro come sei male come beh direi che per come è stata è proprio una grande guarda me l'aspettavo un po diverso c'è ma proprio ma porco dio ma tu ancora il coraggio di parlare abbi la decenza la decenza di stazzito e di non scrive è proprio quello saverio no che non lo conosco è proprio quello discorso che questa battuta me l'avessi fatta un mio amico ovviamente non saremmo qua a parlarne il problema che una persona che qui è convinta che può dire una roba del genere e passarla come scherzo cosiddetto che io non l'ho mai visto e ha descritto attenzione lui dice riascoltiamo eh cioè non c'è problema perché lui dice che viene dove io suono perché sapete che io pubblico le storie che vado il martedì a suonare in un locale e proprio guarda non ci arriva non ho detto che non puoi replicare lo stai facendo in abbondanza io ti dico che magari questo è un consiglio abbi la decenza perché se questo è il contenuto e io l'ascolto l'ho ascoltato ora per la prima volta se quello è il contenuto abbi consiglio mio fan che vuoi di sto consiglio buttalo via abbi la decenza di tacere decenza ok